Salve amici del Centrometro Italiano, peggioramento confermato nel weekend per il transito di una goccia fredda sull'Italia. Vediamo però la tendenza per il fine settimana. Situazione sinottica che vede una circolazione depressionaria sull'Europa occidentale, la quale porta ancora a condizioni di tempo stabile al nord Italia e più asciutto invece altrove. Per l'ultimo weekend del mese si conferma invece il transito di una piccola goccia fredda in quota sul Mediterraneo centrale. Instabilità in aumento tra sabato e domenica su tutta la penisola, con possibilità di acquazzoni e temporali diffusi e localmente anche intensi. Temperature in media o anche poco al di sotto. Sul finire di maggio l'alta pressione dovrebbe espandersi sui settori occidentali del continente, ma lasciando l'Italia sul bordo è dunque soggetta ancora a instabilità pomeridiana. Seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centrometro Italiano. Un saluto da parte del Centrometro Italiano. Al prossimo video. Al prossimo video. Grazie per la visione!